Sono iniziate mercoledì le operazioni di individuazione della locomotiva fondata nel novembre 1944 nel fiume Olio dopo il bombardamento che colpì il ponte tra Bozzola e Marcaria. Operazione che si rende necessaria per individuare il relitto affiorato qualche volta dall'acqua in questi anni, specie quando l'olio era in secca, e poter così procedere con il campo libero per la realizzazione di un nuovo ponte ferroviario con raddoppio dei binari, dato che questa novità rientra ovviamente nei lavori del raddoppio da Mantua, Piazza e la Drizzona col primo lotto che dovrà essere concluso entro il 2026. Per il momento si è trattato di operazioni per così dire poco spettacolari, con alcune imbarcazioni che hanno scandagliato il letto del fiume in attesa di capire come e se si potrà procedere alla rimozione della locomotiva. Va anche detto che contrariamente a quelle che potevano essere le previsioni iniziali servirà parecchia pazienza per due motivi. La rimozione della locomotiva è pressoché indispensabile per poter edificare il nuovo ponte con doppio binario in sicurezza a partire dalle fondamenta. In secondo luogo il livello del fiume Olio in queste settimane è abbastanza alto e dunque si dovrà attendere l'abbassamento delle acque per poter intervenire. Solo a quel punto la locomotiva potrà essere rimossa presumibilmente per parti, anche perché è composta anche di assi di legno che, di conseguenza, avranno subito più di altre l'usura del tempo e l'azione dell'acqua. Va anche detto che, rientrando questa operazione, tra quelle preliminari, ma trovandosi il ponte su un tratto lontano da Mantua, da dove il cantiere parte, non sembra esserci troppa fretta perché il raddoppio vero e proprio qui arriverà soltanto tra qualche mese. Intanto però l'intenzione è di portarsi avanti da dove possibile per preparare il terreno al cantiere che verrà.